Funziona! Fare grammatica insieme! La nuova grammatica per la scuola secondaria di primo grado. In due pratici tomi e un quaderno operativo. Il corso punta su un metodo cooperativo e quindi realmente inclusivo, adatto a classi eterogenee. La scrittura e le tipologie testuali vengono affrontate in modo graduale per preparare gli studenti al nuovo esame di stato. Funziona! Fare grammatica insieme si basa su un metodo di apprendimento in tre step. Mettiamo a fuoco presenta un breve testo illustrato da un disegno. Riflettiamo insieme è una guida che sollecita gli studenti a ragionare sugli elementi della lingua per arrivare a Impariamo la regola. La sezione è completata da una mappa attiva e dai primi esercizi, attività supportate da suggerimenti per lo svolgimento. I laboratori dalla grammatica al testo che concludono ogni unità portano a capire il senso degli elementi grammaticali all'interno del testo e guidano alla produzione. Vari e numerosi gli esercizi, in particolare il progetto di verifica formativa personalizzata, consente a tutti i ragazzi di raggiungere il successo formativo. Con questo approccio lo studente diventa realmente protagonista dell'apprendimento. Le tipologie testuali sono integrate in ciascun tomo. La complessità crescente dei testi prepara gli studenti al nuovo esame di Stato. Funziona, fare grammatica insieme è anche Hub Young, il libro digitale ricco di risorse multimediali, visualizzabile anche in versione accessibile. Video per approfondire la grammatica e le tipologie testuali. Test a cui accedere direttamente da smartphone e tablet per svolgere verifiche in autonomia e ricevere le soluzioni dalla piattaforma. Completano le risorse multimediali, audio e mappe per la didattica inclusiva. Con l'app HubSmart lo studente inquadra il QR code accedendo a video, audio e test. Infine, la nuova piattaforma HubTest offre al docente un ricco database di verifiche modificabili. Funziona, fare grammatica insieme. La nuova grammatica per imparare in modo attivo e cooperativo. Il nostro bisogno è cliccare di vedere l'ergimento. Grazie a tutti